Vedete un paziente mi ha regalato questo pezzo di tronco in realtà su cui sono stati coltivati questi meravigliosi shiitake. Shiitake cosa vuol dire? Viene dal giapponese shiitake ed è composto dai due elementi shiitake, quindi shi che vuol dire quercia, take che vuol dire fungo. Fungo della quercia, fungo conosciutissimo in oriente, i cinesi mangiano sempre lo shiitake e da un po' di tempo però è conosciuto anche in Italia quindi voi potete trovare anche dello shiitake anche in supermercato ed è un alimento straordinario. Cosa fa lo shiitake? Lo shiitake oltre ad avere tutte le proprietà solite dei funghi, a contenere tutti gli aminoaci essenziali, a contenere la pro vitamina D, a contenere sostanze che abbassano i livelli di colesterolo e così via, contiene anche il lentinano, lo shiitake si chiama anche lentinus edodes, il quale è un potentissimo stimolante immunitario. Quindi è un fungo che potremmo veramente usare tutti.